ognuno di noi ha una casetta così nascosta nel proprio cuore e siamo con arturo brachetti lo show the record solo 720 mila spettatori in italia in europa e prossimamente nel mondo spettatori disperati perché non riescono a trovare un biglietto sold out ovunque 12.000 da selfie scattati con i fan 65 personaggi che cambiano di edizione in edizione uno show high tech perché c'è il laser fight la lotta con i laser ma anche uno show che coniuga tradizione all'innovazione perché c'è il sand painting le ombre cinesi il video mapping ma soprattutto tante trasformazioni che è la mia specialità la cosa per cui sono conosciuto in tutto il mondo il fatto che in questo spettacolo faccio 65 personaggi alla velocità diciamo della luce perché alcune volte mi cambio in un secondo alcune volte in tre secondi proprio quando va proprio male quattro secondi è la differenza tra trasformismo e travestimento il trasformismo per me è un superpotere quello che in scena mi permette di diventare tutte queste persone cambiando parrucca costume scarpe e soprattutto anche anima è un gioco un po schizofrenico di poter essere uno nessuno centomila in una sola serata e il travestimento forse uno lo fa per divertimento ed è un po finalizzato solo all'estetica ma il gioco vero sta nel trasformismo si chiama solo ma tu sul palco c'hai altre 13 persone il solo è quello che si vede sono io un po come in una partita di pallone sono quello che tira il gol e fa appunto rete tutti la gole e la gente applaude però occhi mi passa la palla perché in scena nelle quinte siamo in undici due al fondo sale siamo in tredici in tournée quindi il gioco è un gioco di squadra tu conosci il contenuto di tutti i ruoli e sei anche maniacale io sono un artigiano quindi spesso mi costruisco le cose da solo oppure comunque seguo la costruzione dei costumi che sono ovviamente truccati ma anche gli oggetti passo per passo pensa perché per fare una cosa di carta che non si poteva tagliare con laser abbiamo tirato fuori una vecchia macchina del 1800 a torino una tipografia per poter stampare delle cose su che non si non si usava più da anni quindi sono anche la ricerca di questi artigiani che in italia sono ancora tantissimi sempre più preziosi e c'è una casetta sul palco e un'ombra che ti aiuta si lo spettacolo ruota intorno a questa casetta che è la casetta metaforica che sta nella nostra testa in cui abbiamo le stanze dei ricordi delle paure delle speranze dei sogni e poi la mia ombra l'ombra di peter pan dal 67enne che è un attore di colore kevin michael moore che è un po la parte di noi che ci attrae verso la terra perché l'ombra strisce sempre per terra lungo i muri mentre invece voglio volare ma alla fine dello spettacolo riuscirò a volare il sentimento del cuore don silvio mantelli è uno scopo di beneficenza anno in anno cambia il progetto ma c'è sempre il tournée viene a trovarmi don silvio mantelli che è il mio mentore prete mago quando io ho 14 anni ero piccolo magro sfigato lui mi diede le chiavi di questa stanza piena di giochi di prestigio di libri e mi tirò fuori dalla mia timidezza mi presentò una vocazione che non era quella religiosa ma quella di far spettacolo e io vivo questa mia vita come un missionario della fantasia e don silvio in un certo senso è stato uno dei miei padri spirituali perché mio padre invece non ha mai voluto che facessi l'artista invece lui almeno mi ha mi ha aperto la porta di questo mondo veraviglioso che è il teatro che è l'arte don silvio tu incontri arturo brachetti quando è un ragazzino un'estate in colonia aggressione e ti identifichi prendi sotto la tua letta protettiva e che cosa succede e succede il sogno si realizza un sogno per me d'accordo e anche per arturo era un ragazzino timido diciamo molto imbranato e questo fatto di vedere che io facevo questi giochi queste magie realizza in sé queste aspettative e questo sogno è quello di essere importante soprattutto attraverso realizzare anche solo un gioco perché un gioco di magia crei noi un'autostima e questo è importante tu dici che i bambini sono ricchezza della terra e tesoro del cielo e per i bambini hai raccolto tantissimo per l'ucrania più di 120 mila euro poi 23 mila euro per la striscia di gaza e hai fatto tantissimo per tutti i bambini del mondo hai tolto le armi ai bambini delle guerre dimenticate gli hai regalato una bacchetta magica vogliamo raccontare l'essenza della beneficenza che fai ma non è altro che rispondere a un desiderio e un'aspettativa dentro di sé ecco questo è fondamentale farlo perché è una necessità che uno trova dentro girando per il mondo vedi queste situazioni questi bambini che hanno bisogno in pratica di tutto di realizzare meglio il loro sogno di una vita allora basta penso almeno è proprio così una cosa anche minima io ho conosciuto madre teresa nel 96 lei diceva togli una goccia da questo oceano delle cose brutte domani l'oceano è un po più piccolo ma soprattutto perché quello l'ho fatto io è un dovere da parte nostra e non bisogna tirarsi indietro